Benvenuti in questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa in cui parleremo delle caratteristiche più avanzate di Shiny per permettere l'interattività anche sugli output, in particolare sui diagrammi. Come funzionano i grafici interattivi in Shiny? Sostanzialmente Shiny permette di gestire eventi e interazioni che possono avvenire sui plot e sulle immagini sostanzialmente tramite l'uso del mouse. Sono in fase di sviluppo anche gli eventi di tipo touch che sono un po' più complicati ma per il momento quelli di tipo mouse sono supportati. L'idea è che quando io definisco un evento successivamente posso tramite la serie di variabili input, dollar o qualcosa accedere alla caratteristica di questo evento, ad esempio la posizione. E il nome di questa variabile di solito viene definito all'interno della definizione di un plot con opportuni argomenti. Come funziona il meccanismo? Sul lato browser JavaScript permette di andare a intercettare eventi del mouse, questi eventi vengono inviati al server esattamente come gli altri input. Sul lato server questi eventi scatenano sostanzialmente la modifica delle variabili, quelle che corrispondono agli eventi, e quindi il ricalcolo di tutti gli output o delle altre espressioni reactive che sono ad essi collegati. A questo punto, dopo il ricalcolo, gli aggiornamenti vengono inviati al browser. Quindi il flusso di esecuzione sostanzialmente è analogo a quello che avviene normalmente con gli input, l'unica differenza è che l'input non è un clic su un pulsante o un inserimento di un valore, ma è un, ad esempio, clic su un grafico. Il clic è l'esempio più semplice di evento che possiamo avere su un grafico. Esiste un parametro della funzione plot output che si chiama per la punto clic, e a cui io posso assegnare, nel caso più semplice, un nome, oppure un oggetto generato da una funzione, oppure una funzione apposita. Nel caso in cui utilizzi un nome, semplicemente quel nome diventa il nome della variabile a disposizione sul lato server. Per cui, se ho chiamato plot clic quella variabile, potrò utilizzare input dollaro plot clic per avere le informazioni relative all'evento di tipo clic. L'evento contiene varie informazioni, tra cui principalmente le coordinate x e y dell'evento. Le coordinate sono automaticamente espresse nel sistema di coordinate del grafico. Questo funziona per i grafici generati con ggplot oppure i grafici di base. Se facciamo la stessa cosa su un'immagine, le coordinate sono espresse puramente in pixel. Posso andare a definire parametri ulteriori nella gestione dell'evento utilizzando una funzione apposita che si chiama click ops, che nel caso più semplice ha un nome. Quindi mettere click ops uguale id plot click, sostanzialmente questo corrisponde a mettere semplicemente il nome. Ma esiste un altro parametro che si chiama clip che permette di andare a limitare, quindi tagliare e potare eventi di tipo click al di fuori dell'area del grafico. Esempio, in questo caso ho un plot, plot cars, il parametro click definisce il nome dell'evento e della variabile point click e poi ho un verbatimitexoutput con un po' di informazioni. Sul lato server cosa faccio? Vado a fare un render plot, metto un ggplot, uso un insieme di dati che si chiama mt cars, che sono dei dati disponibili all'interno di R. R ha diversi dataset già presenti che possono essere utilizzati per esempi o per altre alternative. Il particolare mt cars deriva da una serie di dati, Motor Trends Car Road Test, che descrive una serie di auto disponibili negli anni 73-74 con alcune loro caratteristiche. Quindi io posso utilizzare un dettagativo mt cars o help mt cars per avere più informazioni, c'è anche una presentazione online. La struttura del nostro data frame è quella che vediamo qui, dove abbiamo la prima colonna che è miles per gallons, che è sostanzialmente il consumo, il numero di cilindri, il volume occupato, la potenza in cavalli, eccetera. Quindi l'idea è di utilizzare negli esempi di questa lezione i dati che sono disponibili in questo dataset. Tornando quindi al nostro plot, prendo il dataset mt cars, vado a mettere come variabili x e y il peso e il consumo, metto dei geron point e specifico due etichette. L'output è sostanzialmente un render text di che cosa? Di x uguale input dollaro point click dollaro x e input dollaro point click dollaro y, quindi le coordinate x e y del click. Quindi cosa succede se io vado a eseguire questa app? Sostanzialmente mi ritrovo qui il mio grafico, posso andare a cliccare in un punto qualunque del mio grafico, ad esempio qui 2, 15, e quindi ottengo le coordinate x e y. I click sono sostanzialmente slegati dai punti, quindi io seleziono, faccio un click su qualunque posizione del mio grafico. Molto spesso quando io faccio un click, voglio magari fare un click relativamente a un punto, ad esempio per selezionarlo. Per cui quando voglio fare un click e identificare un punto, ho bisogno di informazioni di contesto, ovvero sapere quali sono i punti nei pressi di una certa posizione in cui ho fatto click. A questo scopo è disponibile una funzione che si chiama NeeraPoints, che come suggerisce il nome restituisce i punti che sono vicini alla posizione in cui è stato fatto il click. Quindi mi dà sostanzialmente un data frame che corrisponde al data frame utilizzato in ggplot, in cui ci sono le righe che sono ordinate in base alla distanza dalla posizione del click e restituisce per default i punti che si trovano in un intorno di 5 pixel dalla posizione del click. Tutte le caratteristiche sono derivate in maniera automatica, a partire dalla costruzione di ggplot, ma funzionano soltanto se le variabili che uso nell'estetica sono delle colonne del mio data frame. Non funzionano quando io ho all'interno dell'estetica delle espressioni, ad esempio metri su mille, minuti per 60, eccetera. Se io ho bisogno di queste variabili, devo semplicemente andare a aggiungere, ad esempio, un mutate nella mia elaborazione dei dati, subito prima del plot, in modo da aggiungere delle variabili apposite che contengono il risultato di queste espressioni. In questo modo l'interazione mi permette di andare a identificare correttamente i punti. Inoltre posso andare a definire alcune caratteristiche aggiuntive delle modalità con cui vengono identificati i punti, per cui posso modificare il default di 5 pixel con un parametro che si chiama Trishield, posso andare a definire il numero massimo di punti che viene restituito, quindi ci sono tanti i punti, è possibile che vengano restituiti tanti, quindi posso mettere un numero massimo. Per default questo valore è nulle, che vuol dire sostanzialmente tutti i punti. Oppure posso andare a chiedere, tramite il parametro AllRows, di restituirmi tutto il mio data frame, con in più una colonna che si chiama Selected Underscore che mi indica se quel punto è tra quelli prossimi alla posizione del click. E infine posso fare un Add Dist che aggiunge nel mio data frame una colonna che si chiama Dist Underscore che contiene la distanza dal punto in pixel. Vediamo qui un esempio che sfrutta questa caratteristica, quindi ho sostanzialmente un plot e un table output, quindi una tabella. Il plot è sostanzialmente identico a quello di prima, quindi mtcars con queste due variabili in x e y. la puntata mi fa un render table in cui vado a utilizzare i punti in un intorno di 20 pixel. Per cui, se vado a cliccare, ad esempio, vicino a questi due punti in basso, ottengo quei due punti nell'intorno di 20 pixel. Oltre al click ho anche il double click, quindi il parametro si chiama dblclick. Se voglio specificare dei parametri aggiuntivi posso andare a utilizzare una funzione che si chiama doubleclickops che ha sostanzialmente il clip di prima più un parametro che si chiama delay che permette di andare a dire qual è il ritardo massimo tra due click consecutivi perché questi vengono considerati un doppio click. Quindi, se il ritardo è molto stretto devo fare due click molto veloci altrimenti posso anche fare due click relativamente distanziati nel tempo. Questo può essere utile per andare ad agevolare l'interazione se ho degli utenti che magari non riescono a fare il click troppo veloce. Abbiamo poi gli eventi di tipo over ovvero quando il puntatore passa vicino o sopra un certo punto over funziona sostanzialmente come il parametro click o doubleclick inoltre posso andare a specificare dei parametri aggiuntivi usando la funzione overops i parametri aggiuntivi sono sostanzialmente il delay mi dice quanto devo attendere prima di inviare l'informazione di over e il tipo di delay che mi permette di andare a usare un'operazione throttle per cui ogni tot secondi, millisecondi io posso avere un unico evento di tipo over oppure the bounce che sostanzialmente prevede che l'evento venga inviato soltanto dopo che il cursore è sostanzialmente fermo immobile per tot secondi questo è un meccanismo queste due alternative sono dei meccanismi per evitare che non appena mi muovo in un'area densa di punti del mio grafico abbia tantissimi eventi quindi sostanzialmente abbia un risultato che è difficile poi da visualizzare in maniera significativa e poi il parametro null outside che mi permette di andare a definire se l'evento deve essere messo null quando esco dall'area del mio diagramma esempio un plot output analogo a quello di prima dove però invece del click ho un evento di tipo over l'evento di tipo over viene specificato con la funzione over ops in cui l'identificatore quindi il nome della variabile input è h il delay type è di tipo the bounce quindi devo stare fermo con il mio puntatore per almeno 500 millisecondi parametro delay ho un verbatite text output con le informazioni e ho il mio solito render plot esattamente come prima e ho un render print che mi stampa il risultato di near points cioè sostanzialmente il data frame con i punti dove non passo più il punto del click ma passo il punto dell'over quindi near points funziona sia con gli eventi di tipo click che con gli eventi di tipo over quindi questo è il mio solito grafico di prima quindi a questo punto vedete se io mi muovo all'interno del diagramma non succede nulla se mi posiziono per un po' di tempo su un punto ecco che ottengo le informazioni quarta tipologia di evento sono gli eventi di tipo brushing ovvero quando io seleziono un'area del mio diagramma e quindi vado a inglobare una serie di punti dei miei dati invece di utilizzare near points in questo caso non andrò a identificare un punto che è vicino al brush ma andrò a identificare i punti che si trovano all'interno dell'area quindi utilizzerò una funzione che si chiama brushed points che è sostanzialmente analoga al funzionamento di near points ma invece di prendere i punti vicini prende i punti all'interno dell'area brushed selezionata posso andare a specificare dei parametri aggiuntivi relativi al modo in cui io posso gestire gli eventi di tipo brush con la funzione brush ops posso usare un parametro fill per identificare il colore di riempimento stroke per identificare il bordo il colore del bordo opacity per identificare l'opacità del riempimento dell'area rettangolare che andrò a definire col brush posso specificare una direction che normalmente è x y quindi io posso definire un rettangolo sostanzialmente oppure potrebbe essere x oppure soltanto y quindi vado a identificare delle fasce verticali oppure orizzontali che seleziono e reset on new che sostanzialmente mi cancella il brush quando aggiorno l'immagine e il plot altrimenti il brush resta valido anche dopo aver rigenerato il plot ecco qui un altro esempio di evento di brush in cui ho in maniera analoga il mio plot esattamente come prima con l'evento di tipo brush la funzione brush ops in cui ho un nome della variabile che si chiama cell un colore di riempimento orange e uno stroke quindi il colore del bordo bianco e un verbatim text output che esattamente come prima mi restituisce non i near points ma per sì i brush points per il resto il plot è uguale identico a quello di prima quindi questo è il mio diagramma per cui se io vado a selezionare dei punti quello che ottengo è un rettangolo e i punti selezionati nel mio output stampo stampo il data frame come vedete brush point esattamente come near points mi restituisce il data frame ho un sotto insieme del data frame che avevo a disposizione prima posso inoltre andare a modificare il plot quando faccio un brush vedete che qui ho un plot output con un brush in questo caso non vado a definire dei parametri userò i default quindi ho un pbrush e poi ho un'operazione che è leggermente più complicata per cui vado a definire una espressione reactive che si chiama brushed l'espressione reactive sostanzialmente usa la funzione brush point con il parametro all rows uguale a true cosa significa significa che brushed sostanzialmente conterrà esattamente il mio data frame di partenza mtcars che abbiamo usato negli esempi precedenti ma con una colonna aggiunta che si chiama selected underscore che praticamente mi dice quali elementi sono selezionati il mio plot che cosa fa usa innanzitutto non utilizza più mtcars come data frame di partenza ma utilizza brushed ok il brushed parte da mtcars se io non ho niente selezionato sostanzialmente mi restituisce mtcars e usa quella colonna aggiuntiva che mi è stata aggiunta da brush point selected come colore quindi sostanzialmente il colore dei punti selezionati cambierà man mano che sono selezionati o deselezionati dopodiché ho dei punti ho aggiunto questo color scale discrete guide uguale a none sostanzialmente per evitare di mettere una leggenda con il colore che specifica se i punti sono selezionati o meno che in realtà è un'informazione poco rilevante e poi ho una scala che è quella sulla forma dei punti che prende sostanzialmente il numero di cilindri visto che è un numero volendo avere una scala predefinita devo usare un S-factor e qui utilizzo scale shape discrete andando a mettere un name per avere l'etichetta numero di cilindri invece di S.factor di cilindri quindi sostanzialmente un aspetto estetico e poi etichette orizzontali e verticali infine ho il mio output average che è un verbatim text output che vediamo qua su in cima che sostanzialmente mi stampa average consumption or selected e mi fa round di average di 2 che cos'è average? average è un elemento un'altra espressione reactive che ho definito qua sopra in cui sostanzialmente prendo brushed l'altra espressione reactive filtro soltanto gli elementi selezionati poi vado a fare un summarize quindi sintetizzo i miei dati andando a calcolare mpg come media degli mpg quindi calcolo la media del valore di consumo per tutti gli elementi selezionati e poi ultimo passo vado a estrarre solamente la colonna mpg quindi il risultato sarà che average è praticamente un array normale con i valori e quindi quando vado a calcolare quando vado a mostrare il risultato avrò un unico elemento ok essendo un samurai senza un group by prima ho un unico elemento come risultato del summarize e lo mostro arrotondandolo a due cifre decimali quindi risultato qui ho il mio diagramma sostanzialmente di prima posso fare un brush così vedete che il risultato è che i punti hanno cambiato colore e sotto è comparso il consumo medio di questi valori posso ovviamente andare a selezionarne altri quindi il consumo medio di questo gruppo è 24.22 io posso ovviamente ridimensionare il mio brush andando ovviamente a modificare gli elementi selezionati vedete che man mano che cambio l'area di brush i punti all'interno vengono automaticamente colorati e quelli che sono all'esterno cambiano colore tornano colore di partenza il il grafico reattivo di questo particolare applicazione è quello che vediamo qui quindi abbiamo un input unico che è il point brush questo mi va a modificare un'espressione reactive che è brushed ovvero una variante del nostro data frame con in più la colonna con il flag di selezionati il plot dipende direttamente da questo brushed e poi ho un'altra espressione reactive average che dipende a sua volta da brushed e infine ho l'output che è l'average che dipende da average quindi nel momento in cui io cambio il brush automaticamente ricalcolo l'espressione reactive brushed questo scatena un redesign del plot un ricalcolo dell'average e un aggiornamento dell'output che mostra questo average posso avere delle modifiche dei plot anche più complesse andando a utilizzare una variante di la funzione reactive che si chiama reactive val reactive val è analoga a reactive ma ha una differenza fondamentale che permette direttamente nel codice del server di andare a modificare il valore quindi reactive val non viene ricalcolato aggiornato soltanto in automatico ma io posso andare a esplicitamente assegnare un nuovo valore quando assegno un nuovo valore a un reactive val automaticamente tutte le altre espressioni reactive e gli output che dipendono da questo reactive val vengono aggiornati quindi quindi è un valore reactive che dipende dal codice che io ho sul server e non dall'input che arriva dall'utente per cui io posso definire un reactive val con un certo valore 10 posso aggiornarlo usando la notazione tipo funzione quindi val aperto a tonda 1000 aggiorna il valore e scatena il ricalcolo di tutto quello che dipende da questo val e posso andare a vedere il valore attuale utilizzando val aperta chiusa tonda quindi senza parametri quando questo viene utilizzato all'interno di un elemento di un contesto reactive automaticamente genera una dipendenza esattamente come usiassi un input dollar o qualcosa esempio vediamo prima l'output ho il mio solito diagramma di prima ho un pulsante reset selection e ho la possibilità di andare a selezionare i miei punti con un semplice click quindi cliccando su un punto questo viene selezionato quindi ho tre elementi nel mio output come vedete qua ho un plot output con il click ho un action button che ha un id che verrà utilizzato e un reset e poi ho un varmati index output che contiene poi la media dei punti che andrò a selezionare come faccio a selezionare questi elementi allora sul mio server vado a definire una variabile reactive ma reactive val ovvero una variabile il cui valore controllo io esplicitamente all'interno del server e sostanzialmente reactive val è una serie di valori booleani che mi dicono quali elementi sono selezionati infatti viene inizializzata con un valore false ripetuto tante volte quante sono il numero di righe del mio data frame mtcars come faccio ad aggiornare questo valore reactive allora posso innanzitutto usando il pulsante andare a resettarlo quindi ho un observ event ricordate che il observ event sostanzialmente dipende da un evento ma non genera un valore eseguo un'azione quindi in risposta al pulsante di reset che cosa faccio vado a dire selected e ripeto false per il numero di righe di mtcars quindi esattamente uguale identico all'inizializzazione un altro modo in cui vado a aggiornare il mio la mia variabile reactive e usando un altro observ event che però questa volta dipende dal click cosa faccio quando ho un click vado a prendere clicked uguale near points mtcar input click all roles uguale true dollaro selected quindi sostanzialmente vado a prendere la colonna selected del data frame che mi viene generato in cui questa colonna sostanzialmente ha valori true e false per gli elementi selezionati e non selezionati quindi ottengo un array che è analogo a quello che ho creato prima con il mio reactive val a questo punto selected che mi contiene una serie di flag che mi dicono quali punti sono attualmente selezionati clicked che mi elenca quali punti sono stati cliccati ragioneramente uno a meno che siano molto vicini quindi il click nelle selezioni due però sostanzialmente cosa faccio aggiungo gli elementi cliccati a quelli selezionati e lo faccio tramite un or in particolare non uso un semplice or ma uso un exor perché perché sostanzialmente in questo modo se un punto non è selezionato quindi è falso e io lo metto in exor con un true perché è stato cliccato il risultato è true e quindi il punto viene selezionato se invece il punto è già selezionato e quindi è true e è stato nuovamente cliccato true exor true mi da false quindi sostanzialmente usando exor il risultato è che io tramite clic posso selezionare e deselezionare gli elementi se avessi messo semplicemente un or io posso cliccare tante volte quanto voglio su un punto e una volta selezionato resta semplicemente selezionato per il resto che cosa vado a fare vado a prendere mtcars gli aggiungo una colonna che questa volta chiamo cell e che corrisponde al mio array selected che abbiamo visto come viene generato e poi disegno il plot sostanzialmente esattamente come prima con l'unica differenza che io aggiungo un'estetica di colore che corrisponde al fatto che l'elemento sia selezionato o meno esattamente come prima evito di mostrare una leggenda relativa al colore perché il colore in realtà mi dice semplicemente selezionato o selezionato non è una caratteristica dei dati ma è una caratteristica dell'interazione e quindi non lo metto nella leggenda per il resto calcolo la media questa volta invece di utilizzare una funzione reactive vado come vedete qui a usare la stessa espressione dentro il codice relativo al render text è possibile che non ci siano punti selezionati e quindi sostanzialmente il min quindi la media di un elemento di un array vuoto mi dà not a number e quindi qui verifico se leverage è not a number allora indico no point selected un altro modo di farlo analogo a questo poteva essere fare if length di selected è uguale a 0 allora no point selected quindi sostanzialmente è analogo altrimenti che cosa faccio costruisco una stringa in cui metto average mpg of numero di punti selezionati e poi vado a spiegare vado a mettere punti e arrotondo la variabile average appena calcolata a due cifre decimali ok risultato è quello che vediamo qua dove ho la possibilità di cliccare su un punto un altro e poi un altro ancora aggiungendo vari punti in questo modo aggiungo dei punti nel momento in cui io clicco su reset selection cosa succede? metto selected due alla null quindi automaticamente scateno la rivisualizzazione del plot e la rigenerazione dell'output e quindi a questo punto tutti i punti vengono di nuovo ricolorati di rosso perché nessuno è più selezionato e non avendo punti selezionati sostanzialmente stampo no point selected quindi questo è un esempio di interazione un po' più sofisticata di quella che abbiamo visto nel caso precedente con il brush vediamo un altro esempio di grafico questa volta in cui le interazioni in un grafico influenzano un altro quindi qui vediamo un diagramma a sinistra che è sostanzialmente quello analogo a quelli che abbiamo già visto prima in cui io posso fare il brush di una selezione di punti e un diagramma a destra che mi riporta un box plot in cui le categorie sono sostanzialmente il numero di cilindri e in verticale ho il consumo di miles per gallon vedete sulla sinistra che invece il numero di cilindri è semplicemente codificato come forma dei punti quindi sostanzialmente mi permette di andare a selezionare quindi nel momento in cui io vado a selezionare tramite brush un'area diversa il grafico di destra automaticamente viene aggiornato anche qui ho un pulsante di reset che mi permette di cancellare il tutto e a questo punto posso partire di nuovo con un altro elemento un'altra selezione come posso implementare questo allora vediamo il server il lato interfaccia utente è tutto sommato meno meno importante quindi ho una variabile cell che è un reactive val quindi esattamente quello di prima ho un observ event di un evento brush sul primo plot quello di sinistra e sostanzialmente questo mi permette di andare a selezionare gli elementi selezionati tramite brush esattamente come selected di prima e poi ho un absorb event input dollar reset che mi annulla i selezionati poi ho due render plot per il plot di sinistra e per il plot di destra quello di sinistra non ha caratteristiche particolari quindi è un plot in cui ho peso e consumo all shape as a factor eccetera eccetera quindi sostanzialmente analogo a quelli che abbiamo visto precedentemente il plot di di destra invece sostanzialmente mi dice se not is null cell quindi se gli elementi selezionati sono presenti quindi sostanzialmente il brush contiene qualche cosa allora genero è un ggplot che è un box plot in cui sull'asse x ho il numero di cilindri e sulla y ho il consumo se non ho nulla quindi se gli elementi selezionati non esistono sostanzialmente render plot non mi restituisce nulla e quindi il grafico non è presente quindi questo è un modo ulteriore di andare a generare un diagramma in funzione di quali sono gli elementi selezionati in un altro veniamo a parlare di come possiamo andare a validare i dati che arrivano dall'input non tutti i dati sono corretti possono avere dei dati mancanti dei dati fuori da un range eccetera il primo modo di validare i dati è tramite la funzione rec che sostanzialmente verifica una condizione e se questa non è verificata sostanzialmente blocca ferma il ricalcolo quindi il risultato è che nulla viene generato un po' come quell'if che io avevo messo nell'ultimo esempio quindi se not is null allora genera qualcosa altrimenti non fare nulla rec però sostanzialmente è una chiamata a funzione che nel caso in cui i dati non siano come viene detto qui truthy quindi veritieri blocca l'esecuzione rec ha bisogno di uno più valori e questi valori vengono considerati veri se sono diversi da false null la stringa vuota oppure un vettore vuoto o alcuni altri casi un po' molto particolari se non sono uno di questi valori viene considerato vero e quindi l'esecuzione prosegue se invece il valore passato è uno di questi automaticamente l'esecuzione del render o della funzione reattiva viene interrotta e quindi i valori a valle automaticamente non hanno più un valore valido sostanzialmente rec genera un'eccezione silenziosa che non viene registrata in alcun modo posso variare leggermente il comportamento di rec usando cancel output uguale a false che sostanzialmente invece di svuotare gli elementi che dipendono dal ricalcolo che è stato bloccato mantiene i valori precedenti se ce ne sono ecco qui un esempio di uso di rec qui ho un numero di cui vado a mostrare poi la radice quadrata rec mi dice qui maggiore di zero ora voi direte sì io in realtà qui non posso mettere numeri maggiori minori di zero ecco non sicuramente utilizzando queste freccette ma io negli input posso comunque sempre andare a inserire a mano un valore quindi posso scrivere meno uno ecco in questo caso cosa succede rec a maggiore di zero mi trova che la condizione è vera e quindi blocca la condizione è falsa e quindi blocca l'esecuzione quindi non andrò a eseguire questo sqrt di a che mi darebbe un not a number invece vedete nell'output non ho nessun output appena torno su valori normali ecco che l'output viene di nuovo calcolato normalmente quindi rec sostanzialmente blocca il ricalcolo dell'output un modo leggermente più articolato di gestire la validazione è utilizzando una funzione che si chiama validator che sostanzialmente prende dei parametri che vengono utilizzati come messaggi o come condizioni quindi io posso mettere semplicemente una stringa validate di qualcosa e questo mi stampa un messaggio d'errore oppure posso utilizzare validate in combinazione con una funzione che si chiama need che riceve una condizione e un messaggio da stampare in cui questa condizione non sia vera per cui ad esempio se qui ho due numeri che voglio siano positivi e l'output è la somma come al solito io posso mettere valori positivi ma nel momento in cui vado a mettere uno zero la validazione fallisce la validazione in questo caso è un need input numero uno maggiore di zero and numero due maggiore di zero quindi se entrambi sono maggiori di zero bene altrimenti mi dice il messaggio only positive values allowed che è il messaggio che vediamo stampato qui sotto quindi rispetto a rec validate con need mi permette di verificare una condizione e specificare un messaggio che verrà visualizzato come messaggio d'errore l'argomento successivo che trovate nelle slide riguarda la generazione dinamica di grafici in cui io utilizzo gli input non come semplici valori come in tutti gli esempi visti finora ma bensì come nomi di variabili per cui un input mi permette di specificare il nome della variabile che andrò a utilizzare ad esempio come colonna o come asse x o y di un grafico questo richiede dei livelli in direzione e degli accorgimenti un po' più specifici ma lascio questi argomenti nelle slide e non li tratto in questa lezione che comunque già ha fornito significativi contenuti